Incidente stradale sulla strada che collega Crispiano alla frazione di San Simone, nel Tarantino. A bordo dell'auto viaggiavano due persone. Una giovane donna di 19 anni, incinta alla quinta settimana di gestazione, è rimasta incastrata tra le lamiere e contorte del veicolo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto che sono riusciti a liberare la donna. La giovane soccorsa dei sanitari del servizio 118 è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata del capologo Ionico. avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo e ferita ad una gamba. Ci sarebbero lievi conseguenze per l'altro passeggero. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per appurare l'esatta dinamica del sinistro. La vettura, una Ford Fusion, sarebbe finita prima contro un muretto a secco per poi ribaltarsi ed infine adagiarsi su una fiancata.